E chi non sa che insieme a noi cos'è, è un'inonistà, è un'inonistà. Come si chiama? Maria Camon. E quanti anni ha? 84. È tifosa dall'Inter da quanto tempo? Da quando c'era Mazzola ancora. Quindi la sua squadra del cuore? Sempre, sempre, sì. E oggi ha deciso di venire qua a festeggiare per strada? Certo, prima ho guardato la partita però, 2-0. Dove l'ha guardata la partita? In casa, mio nipote è a San Siro però. Ma qual è la partita più bella che ha mai visto? Oggi. Oggi? Perché? Perché i miei amati cacciatori hanno giocato benissimo, li conosco quasi tutti. Di Marco, Bastoni, Lautaro, il Toro, tutti, Varella. Li voglio tanto bene, bravissimi, mi avete fatto felice. Grazie. Grazie.